salve ragazzi e benvenuti oggi volevo portarvi la demo di system shock praticamente il padre di bioshock della saga bioshock e parzialmente anche un po di fallout 3 di bethesda infatti ci sono molti tratti che sicuramente bethesda ha preso da questo tipo di gioco questa demo è presente su steam e anche su gog la sto giocando su pc quindi potete provarla il gioco dovrebbe uscire quest'estate o questa primavera estate 2021 in realtà non si sa quando dovrebbe uscire dovrebbe uscire quest'anno ma vediamo un po com'è combinato in realtà questo è un non è un remastered ma è un vero e proprio remake perché hanno usato un nuovo sistema un nuovo motore grafico quindi non è semplicemente un upgrade in hd o in 4k è proprio un nuovo motore grafico anche se molto fedele all'originale vorrei farvi vedere un po di gameplay e un po come si gioca e vedrete tantissime similitudini a ovviamente bioshock e anche a fallout ovviamente un gioco pieno di neon con uno stile che ricordo un po' secondo me gli anni 80 anche e come vedete noi ci muoviamo abbiamo una quick bar abbiamo un inventario molto la diablo e poi vedrete con il tasto destro possiamo raccogliere quasi tutto un po come poi si potrà fare in fallout anche in bioshock di fatto e molti di questi oggetti in realtà non servono a niente infatti c'è la descrizione ma sono tazze, siringhe, roba abbastanza inutile in realtà le cose utili poi ve le mette in quick bar come il coso medico ora vedrete una cosa fighissima ovvero che installeremo delle componenti e la nostra interfaccia cambierà molto figo ora vedete un po come si ci darà la minimappa ci darà anche qualche altra informazione a schermo di fatto i cyberware di cyberpunk per certi versi questo gioco vuole essere molto fedele all'originale e purtroppo anche nel combat system perché è un po' un po' vecchio secondo me vedete adesso ci abbiamo la minimappa ci abbiamo insomma i dati vitali in alto a sinistra tutti questi oggetti sono abbastanza inutili in realtà qua ci possiamo curare non starò tanto ad ascoltare la storia e tutto quanto perché comunque insomma voglio farvi vedere più che altro come si vede le visual e come si gioca rimane il fatto che è comunque una demo disponibile gratis per tutti non c'è niente questo sarebbe il tab della del cadavere ecco ci sono enigmi va bene ripetiamo tutto ci sono enigmi ambientali e quant'altro e chiaramente insomma è quello che è il precursore come vi ho detto di bioshock qua riattiviamo un po' l'energia elettrica è molto figo secondo me l'hanno rifatto in modo bello all'estetico qua abbiamo dei proiettili però ancora non abbiamo la pistola guardate che figate qua ci serve un codice qua guardiamo dove eravamo prima vediamo un po' c'è un cadavere che non ha niente questo abbiamo raccolto un sacco di medipack berserker insomma di buff questo una penna osb c'è una nota e la nota ci dice che che 451 è la password ok piccolo e c'è una sorta presa cazzo vuoi ecco il combattimento corpo a corpo è un po' così non è particolarmente soddisfacente ok abbiamo la pistola ricarichiamo questo è un puzzle che è praticamente molto simile a quelli che c'erano in Bioshock coi liquidi e dovete unire insomma il flusso immagine esatto e si è attivata l'energia quindi vedete ci sono un po' di puzzle che un po' ricordano Bioshock o meglio ovviamente Bioshock appreso da questo gioco è questo è il suo padre spirituale qua sembra un obitorio no è vivo un inquietantissimo medico ci sono del dei file audio questa era una chiave credo insomma dei consumabili vedete anche i cyberware diciamo così che abbiamo installato prima i media che abbiamo preso lo status di tutta la cittadella questa è dove siamo in realtà tutta la stazione spaziale i vari piani la mappa cioè è un gioco bello complesso c'è tanto da esplorare qua andare avanti non c'è molto feedback quando sparate purtroppo devo dire che sia combattimento corpo a corpo che disparatorio non è particolarmente soddisfacente un altro file audio che cazzo ok questa non c'è nulla forse potevano poste cuse it's locked in cyberspace ok ok stiamo andando in cyberspace cazzo cazzo non so che fare che devo fare? gioco dimmi qualcosa è bellissimo però l'ho picchiato pulsar com si è aperto ok è un labirinto sto oh bellissimo ok un trip sembra un gioco degli anni 90 però chiaramente con una grafica è un po' migliore uh allora questa parte è bellissima non ci sto capendo una sega probabilmente sparare alle cose e andare avanti ho aperto devo seguire il verde bella mira ah si è aperto sembra dei virus dei virus mi fa accelerare ho preso la speed questo deve essere il cyberspace che diceva la porta forse ah ma c'è anche un tempo tutto questo ho due minuti vabbè quindi concentriamoci su uscire concentriamoci su morire anche perché sono quasi morto dai 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 fammi uscire abbiamo finito? che trip che trip e quindi ho sbloccato qualcosa? no a cosa è servito tutto ciò non lo so però andiamo avanti for the sake of farvi vedere le cose andiamo avanti però è una figata bella questa è infinita energy non c'è un caricatore il gioco non vi spiega un cazzo abbiamo capito questo ho quattro colpi ok ho trovato un caricatore ok allora visivamente mi piace un sacco il combat mi sembra un po' deboluccio però è interessante bisognerà vedere che cazzo c'è una cura qua curiamoci cosa ero accolto? damaged spark beam ma lo posso usare? no perché è rotto qua non ci posso andare ciao questo da attivare vabbè raga e basta e scarico non droppano un cazzo non come l'hai un figlio che c'è non Ho un HP Ciao Torno indietro a curarmi Comunque ragazzi Io chiuderei anche qui perché sennò non voglio fare il video di 6 anni Trovatelo Questo è come ho detto il padre di tanti videogiochi Questo è un remake, uscirà quest'anno Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate Secondo me è figo L'unica mio dubbio è il combat system onestamente Mi sembra un po' poco... c'è poco feedback Poco soddisfacente però Ho giocato anche 20 minuti quindi c'è poco da... Cioè bisogna vedere anche in futuro Secondo me ci saranno anche poteri, armi più fighe e cose e quant'altro Insomma fatemi sapere cosa ne pensate Noi ci becchiamo come al solito prossimamente per altri video qua sul canale Una buona giornata a tutti e alla prossima Ciao ragazzi Noi ci becchiamo come al solito prossimamente per altri video qua sul canale